Il Master in Finanza, Controllo e Sostenibilità si propone di formare una nuova generazione di manager, auditor e consulenti specializzati in misurazione e comunicazione della performance. Non si intende solo la performance economico-finanziaria, ma anche la performance di sostenibilità, su cui le aziende stanno investendo molto anche alla luce della recente direttiva europea. Serve quindi una nuova generazione di esperti manager che sappiano gestire il cambiamento organizzativo e strategico che la comunicazione di sostenibilità e la sistematica misurazione di queste performance richiederà. Il Master si basa su un metodo didattico che combina costantemente teoria e pratica attraverso lo sviluppo di case aziendali e il coinvolgimento di aziende nei percorsi formativi. Vengono coinvolti tutti i principali network di consulenza e audit internazionali, oltre a primarie società del territorio. Il Master si rivolge a laureati triennali o magistrali e persone che abbiano al massimo 3-4 anni di esperienza professionale. L'elemento più importante per candidarsi è possedere una forte motivazione e la voglia di mettersi in gioco, per acquisire nuove competenze ed inserirsi in ambiti professionali sfidanti. Il Master dura 12 mesi ed ha un'attività full-time organizzata dal lunedì al giovedì. Le attività didattiche iniziano con una serie di precorsi che hanno l'obiettivo di armonizzare le competenze d'aula. Successivamente le lezioni istituzionali sono organizzate in due cicli di lezioni. Il Master si conclude con un'attività di tirocinio che tipicamente inizia a settembre presso un'azienda o una società di audit e consulenza. Il tasso di occupazione del Master a un anno dal conseguimento del titolo è del 100% da ormai più di tre edizioni. Questo testimonia l'esigenza che molti attori, imprese e società hanno delle competenze che si sviluppano durante il nostro percorso. Se anche tu sei interessato ad affrontare le sfide dei cambiamenti globali e hai voglia di affrontare un avvincente percorso formativo, ci aspettiamo nel Professional Master in Finanza, Controllo e Sostenibilità di Bologna Business School.